Fade dice che hai parlato con la Realm. E così questo tizio è un fuggitivo. Un ladro. Con l'universo le cose non sono mai semplici. E ora quelli della Realm vogliono tagliarti fuori, eh? Resta fuori dai nostri affari, hanno detto così. Poveri illusi. Mi piace fare amicizia, ma non oggi. Dobbiamo trovare il fuggitivo per primi. Se vogliamo sapere cosa ha in mente la legione, lui è la chiave.